Ogni famiglia è un mondo, poco importa se tradizionale, monoparentale o allargata. Per indagare i loro desideri e le loro necessità, noi oggi siamo venuti in una location molto pop, i Giardinetti. Seguiteci! Se voi avesse la possibilità di migliorare la vostra vita, la qualità della vostra vita o di vostro figlio con del danaro, come lo investireste? Noi avremmo deciso di ristrutturare casa perché abbiamo lui che è molto piccolo, deve crescere, vorremmo farlo crescere in un mondo migliore, più pulito, quindi vorremmo ristrutturare seguendo dei criteri ecosostenibili proprio perché il futuro lo vogliamo migliore, più pulito per lui. Una cosa fondamentale è aiutare i nipoti, che sono quattro, e uno potrebbe fare per esempio un master in Inghilterra. Guarda, io al momento avrei una necessità, che è quella di ristrutturare una taverna che ho sotto la mia casa e ricavare una stanzetta per mio figlio, questa potrebbe essere una buona opportunità. Se voi avesse del danaro per migliorare la vostra vita, come lo investireste, che cosa fareste? Deciderei di ricomprare un nuovo pianoforte perché sono pianista e ho un pianoforte un po' vecchio, ne prendere un più grande, un più bello, un più nuovo. Io ho un piccolo centro di Pilates e cercherei di far crescere maggiormente per poter permettere, mentre le mamme vengono a fare i loro corsi, anche creando uno spazio per i bambini. Magari in futuro, chissà, può essere che si riesca anche a realizzare una cosa più grande. E voi che progetti avete?